Come sono andate le vacanze, Fiorillo? Molto bene, grazie. Sono stato qualche giorno a staccare con la mia compagna e ci voleva. Adesso siamo ripartiti con questo clima un po' diverso, ma ci vuole perché è un momento importante questo per il lavoro fisico. Si ricomincia con un Pescara che classifica alla mano, oggi seconda e nelle zone tutti vorrebbero, la zona Serie A. Io credo che la classifica di oggi rispecchi quello che abbiamo fatto in questo girone. Abbiamo meritato i punti che abbiamo, qualche d'uno l'abbiamo acciuffato all'ultimo minuto, qualche d'uno ci è stato tolto alla fine. Credo che il Pescara meriti questa posizione, ma adesso il girone di ritorno si apre un ciclo importante perché i primi tre mesi possono essere decisivi. Qualche settimana fa proprio i nostri microfoni eri stato abbastanza pungente contro le critiche che vi avevano un po' dato fastidio, forse un po' troppo forti. Poi la netta vittoria di Salerno ha dimostrato che avete ragione. Sì, perché io credo che nonostante a Salerno non abbiamo avuto un grande approccio alla gara, onestamente credo che nel secondo tempo si sia visto un gran bel Pescara, non solo per la rimonta ma per la tenuta di gioco, il possesso palla, le ripartenze. Ecco, quindi va sottolineato che spesso e volentieri abbiamo anche proposto un bel calcio. A volte siamo stati magari invece meno belli, ma abbiamo comunque raccolto punti. Ti chiedo una cosa, ti chiedo parlando di mercato, chiaramente non devi entrare nello specifico, ma danno un po' fastidio queste voci che accostano al Pescara tanti giocatori, una volta un difensore, una volta un centrocampista, una volta un attaccante, ricordando che la squadra è seconda in classifica? Ma essendo professionisti, ti dico la verità, siamo abbastanza abituati, ecco, ognuno sa dentro di sé quello che ha fatto, che deve fare, che può fare, quindi le voci, almeno personalmente, non credo tocchino direttamente i giocatori. Poi non lo so perché a me non ho di questi problemi, quindi però il gruppo è sereno, lavora bene, è normale che nel mercato sia a gennaio che a giugno qualche trasferimento, qualche cambiamento c'è sempre. Si riparte con l'obiettivo Serie A, obiettivo diverso rispetto a quello che ci dicevamo a luglio. Sì, ma l'obiettivo... C'è l'obiettivo Serie A? L'ho già detto, io non mi nascondo, ecco, dietro a un secondo posto in classifica, ecco, in questa squadra c'è anche tanta altra gente che ha vinto campionati, quindi è normale che dopo la stagione scorsa uno non può vendere del fumo alla gente, quindi cerchi di tenere un profilo basso, venendo da una stagione così travagliata. Adesso ci siamo accorti che quei famosi punti che servono alla salvezza sono quasi vicini, è normale che sogniamo, sogniamo di stare più in alto possibile là e l'equilibrio nel giro di ritorno fa la differenza perché man mano che andranno avanti le partite i punti saranno sempre più importanti, quindi dovrà regnare un equilibrio, dovremmo essere bravi noi a isolarci nei momenti meno belli, ma sapendo che poi in Serie B si può ribaltare tutto da un momento all'altro.